buongiorno benvenuti a una nuova puntata di impara conoscere dedicato alla strumentazione endoscopica oggi vi parlerò del stereoscopio office da 4 mm che è sostanzialmente identico all'isteroscopio da 5 se non per le dimensioni esterne lo vedete qui davanti a me ed è completo pronto per l'uso poi vi spiegheremo perché anche la pinza deve essere all'interno del canale operativo allora adesso iniziamo dal i vari pezzi che compongono l'isteroscopio la prima cosa abbiamo la lente che in questo caso è una lente di hopkins di 30 gradi di deflessione e 1.9 mm di diametro proprio la caratteristica di miniaturizzazione di questa ottica porta con sé il primo consiglio vale a dire quello che la l'ottica va sempre maneggiata dalla parte finale dall'oculare per nessun motivo dovete sostenere l'ottica dalla lente pena la rottura della lente stessa questo perché in questa parte è concentrato il 95 per cento di tutta la lente quindi ripeto se la più distante la prendente dall'oculare verso la punta maggiore sarà la percentuale di possibilità di rischio di rottura della stessa quindi lente da 1.9 mm un'altra cosa ricordatevi sempre quando andrete a pulire la lente di evitare di usare spazzolini abrasivi o anche soffici sulla lente è sufficiente pulire l'isteroscopio lavarlo immediatamente dopo la fine della procedura questo perché perché l'eventuale materiale la presenza di sangue di muco o di detriti è ancora fresca quindi basterà solamente la per quanto riguarda la lente bagnare sotto l'acqua usare le due dita esattamente in questo modo che la lente sarà perfettamente pulita e pronta per essere disinfettata quindi non usate per favore nessun tipo di spazzolino abrasivo un'altra cosa da tenere presente è che va smontato l'adattatore qui ci sono vedete due adattatori per varie tipologie di cavi luce 1 e 2 vanno smontati anche questi due adattatori e vanno rimontavano sterilizzati lavati sterilizzati così e rimontati solo quando sono asciutti questo perché perché se io li rimonto non tanto quello interno che vedete qui questo quanto il secondo è più corto rispetto a quello interno quindi c'è uno spazio qui interno in cui si potrebbe accumulare acqua e montando il cavo luce in questo punto si crea una sacca di acqua che potrebbe rovinare completamente le fibre ottiche che sono sia sulla parte su questo connettore qui sia sul cavo che qui va fissato fatto questo abbiamo la camicia operativa la parte interna della camicia che vedete che è composta dall'alloggiamento per l'ottica dove l'ottica viene fissata dal canale operativo con relativo gommino di tenuta e da valvolina questo il gommino di tenuta e di valvolina per la chiusura della della dello stesso il canale operativo si mette a questo livello anche diventa anche canale di irrigazione attraverso questo connettore anche lui dotato di rubinetto quindi il canale operativo da questo punto in poi è anche canale di deflusso del liquido quindi se noi montiamo la prima parte quindi come vi ho detto prendere l'ottica dall'oculare e inserirla in maniera rettilinea cercare di evitare movimenti errati di piegatura di una della lente sulla camicia o viceversa che porterebbero alla rottura della lente quindi vedete molto delicatamente immetto e poi chiudo i due in maniera serrata vedete siamo pronti la lente adesso è protetta un'altra caratteristica è questo microspazio che vedete qui questa microspazio derivante dalla sovrapposizione della camicia che contiene l'ottica e dalla camicia del canale operativo una volta che monteremo la camicia esterna a livello di questo microspazio si creerà il canale di aspirazione quindi il canale di aspirazione altro non è che la risultante della lo spazio tra la camicia tra l'esterno della camicia interna e l'interno della camicia esterna vale a dire questo inseriamo ricordatevi che il connettore per l'aspirazione che questo opposto al connettore per la irrigazione che è questo se provate a fare questo lo strumento non funziona blocchiamo il stereoscopio è quasi pronto vedete dobbiamo ancora montare il gommino di tenuta sul gommino di tenuta vorrei spendere una parola vale a dire vedete questo gommino di per sé una cosa molto economica molto piccola senza praticamente costo può influenzare l'esito di una procedura perché perché vedete dovete valutare molto bene il forellino presente sulla punta questo forellino se troppo largo in questo in questo gommino siamo al limite se più largo di questo farà fuoriuscire il liquido dal canale operatorio quindi liquido che fuoriesce oltre che a sporcare l'ottica oltre che a bagnarvi creerà meno pressione all'interno dell'utero quindi una cosa così semplice così piccola può influenzare l'esito di una procedura quindi lo montiamo e una volta montato l'isteroscopio sarebbe pronto ma non lo è ancora un altro consiglio ma iniziare la procedura isteroscopica con l'isteroscopio senza nessuno strumento solamente con il canale operativo vuoto e quindi con la valvolina chiusa questo è un trucchetto usato da chi non conosce bene la metodica e non usa un device come quello che ho accanto a me cioè la pompa peristatica in questo caso abbiamo qui l'isi di cui avete già visto il video del settaggio e se voi non usate una pompa e usate solamente la pressione atmosferica o la sacca di compressione non potendo controllare il flusso ovviamente senza strumento avete avrete una maggiore apporto di liquido nell'interno dell'utero quindi una maggiore pressione però questo vuol dire che voi starete lavorando senza nessun tipo di controllo e senza nessun tipo di sicurezza motivo per cui si inizia la procedura sempre con la vostra pinza da biopsia la vedete qui la vostra pinza da biopsia inserita all'interno del canale operativo che va ovviamente aperto ora il vostro strumento è pronto per l'uso completamente montato una particolare attenzione al gommino di tenuta e la pinza nell'interno del canale operativo in questa maniera se tutto il vostro sistema lavorerà in una maniera standardizzata e se avrete bisogno di fare una biopsia di aprire un orifizio utero qualsiasi cosa che vi necessiti l'uso di questo o di un altro strumento meccanico o bipolare non avrete problemi nella distensione dell'utero siamo alla fine di questo appuntamento con impara a conoscere mi auguro che le informazioni suggerimenti forniti possono esservi di aiuto nella pratica quotidiana vi do un appuntamento al prossimo video che sarà sicuramente interessante vi do un appuntamento al prossimo video